Buongiorno e benvenuti alla video lezione sul doping nello sport. Cominciamo con alcuni casi famosi di personaggi di atleti, grandi atleti che sono stati riscontrati positivi al doping. Più famoso di tutti è probabilmente il ciclista Lance Armstrong degli Stati Uniti. Era al massimo della sua carriera, aveva vinto sette Tour de France consecutivi dal 99 al 2005 e poi dopo essere stato trovato positivo gli sono stati tolti tutti i titoli vinti dal 98 in poi. Altro caso famoso soprattutto in Italia è quello di Marco Pantani, famoso anche per la fine tragica perché poi in seguito a questo episodio ci fu anche la morte di Pantani dovuta a una overdose di cocaina. Poi c'è stato il caso di Ben Johnson, un centometrista, un velocista canadese che subito dopo aver vinto i centometri alle Olimpiadi e aver stabilito un record del mondo fu trovato positivo per steroidi e quindi fece molto clamore il suo caso. C'è un altro caso italiano di Alex Schwarzer, un marciatore, un caso molto controverso perché è stato squalificato due volte, dopo la prima volta trovato positivo all'epo è tornato dopo la squalifica ed è stato squalificato nuovamente. Altri casi famosi, famosissimi, sono quelli di Maradona, calciatore che è stato trovato positivo due volte, una prima volta alla cocaina quando giocava nel campionato italiano nel 91 e poi durante i mondiali di calcio del 94 negli Stati Uniti per Efedrina. Un caso un po' più recente è quello della tennista Maria Sharapova, rossa, positiva al Merdonium nel 2016 ed infine un'altra star positiva agli steroidi è stata Marion Jones, famosissima all'epoca, nel 2000 aveva vinto cinque medaglie alle Olimpiadi di Sydney e poco dopo è stata squalificata e vi invito pure ad andare a vedere il link che c'è nella sitografia perché c'è un video che racconta la sua storia. Partiamo da una definizione di doping. Con il termine doping si intende l'uso di particolari sostanze o medicinali con lo scopo di aumentare artificialmente il rendimento fisico e le prestazioni dell'atleta. Spesso non si tratta di droghe come si crede magari ma di normali farmaci utilizzati però per scopi diversi da quelli terapeutici quindi non vengono utilizzati per curare una malattia ma utilizzare farmaci su una persona sana come è un atleta vuol dire esporla ad effetti collaterali ingiustificati quindi ogni farmaco va assunto solo se c'è reale bisogno perché tutti i farmaci sono potenzialmente tossici e pericolosi ed hanno degli effetti collaterali. Quindi usarli in una persona sana in Italia è anche un reato. C'è infatti una legge per cui è reato penale. Il doping è un atto sportivo illecito in quanto costituisce un vantaggio acquisito slealmente. Il doping va contro l'etica dello sport e rappresenta un pericolo per la salute dell'atleta. Parliamo adesso della VADA cioè la World Anti-Doping Agency, l'agenzia mondiale anti-doping. È l'ente che a livello mondiale si occupa del doping. Questa VADA pubblica ogni anno un elenco delle sostanze dei metodi proibiti. Quindi per sapere se una sostanza è vietata oppure no bisogna vedere se è inserita nell'elenco, questa lista proibita. L'uso ma anche solo il possesso o il traffico, la vendita di questa sostanza costituisce una violazione delle norme anti-doping. Quindi non solamente viene punito chi ne fa uso ma anche semplicemente chi ne è in possesso o chi ne fa un traffio, quindi la vende o la compra. In questa lista ci sono alcune sostanze che sono sempre vietate in ogni momento e in ogni sport. Altre sostanze sono vietate solo durante le competizioni, come ad esempio gli stimolanti e i cannabinoidi e non sono vietate invece durante il resto dell'anno. Quindi solo se le assumo o sono risulto positivo durante una competizione posso essere squalificato. Poi ci sono anche altre sostanze che sono vietate solo per alcuni sport. Ad esempio l'alcol non è vietato a meno che non si tratti di gare motoristiche, quindi di auto o moto. Ma d'altronde questo vale anche se io vado in macchina per strada e quindi non sono, non sto facendo una competizione. Se una persona ha una malattia può chiedere una esenzione a fini terapeutici. Cioè se io ho una malattia e ho bisogno di un certo farmaco posso fare una domanda, posso presentare una certificazione medica e quindi informare la UADA che faccio uso di una sostanza vietata. In questo caso ci possono essere delle deroghe, non per tutti i farmaci ma per alcuni sì. Come ad esempio possiamo fare l'esempio dell'asma. Se una persona è asmatica può chiedere attraverso un certificato medico di un dottore, può fare richiesta di utilizzare dei farmaci anti asma e in questo caso ci può essere una autorizzazione per l'uso di questi farmaci. Quindi se sarò trovato positivo avrò comunque la giustificazione e l'autorizzazione ad usare quel farmaco. Per sapere se un atleta ha fatto uso di una sostanza vietata bisogna fare dei controlli antidoping. Questi controlli possono essere fatti o quando c'è la competizione, la gara, quindi il giorno della partita, il giorno dell'evento, oppure durante gli allenamenti, in questo caso si parla di test a sorpresa. Vengono prelevati dei campioni di urina o di sangue e si verifica se c'è la presenza di sostanze proibite che sono incluse nella lista UADA. chiaramente i test a sorpresa sono molto più efficaci perché possono essere fatti in qualsiasi momento dell'anno. Invece i test durante le competizioni possono essere elusi dall'atleta perché sapendo qual è il giorno della gara magari potrà farsi trovare pulito in quell'occasione. Quindi nei giorni precedenti interromperà l'assunzione del farmaco. Quindi un controllo a sorpresa è molto più importante. Quando un atleta risulta positivo, quindi fa le analisi e si vede che ha usato una certa sostanza, si può essere squalificati per un periodo che va da due a quattro anni. E nei casi di recidiva, cioè dopo una squalifica, si ritorna a fare lo stesso reato, quindi si ritorna ad usare una sostanza vietata, ci può anche essere la squalifica a vita. Le sanzioni e le squalifiche, oltre all'uso di sostanze dopanti, possono esserci anche per l'illusione dei controlli, quindi non farsi trovare ai controlli, come è successo alla coppia Schwazzer-Kostner, in cui Carolina Kostner era la fidanzata di Alex Schwazzer. Schwazzer era positivo e quindi gli hanno fatto dei controlli in casa e la Kostner è stata squalificata non per aver assunto un farmaco, ma per aver aiutato il fidanzato a non farsi controllare. E per questo è è stata squalificata anche lei. Le sostanze utilizzate per doparsi sono tantissime. In questa lezione ne prenderemo in esame solamente due, per fare due esempi. Una è l'epo, che viene usata negli sport di resistenza, e l'altra sono gli steroidi anabolizzanti, che invece vengono usati negli sport di forza. Adesso vediamo che cos'è l'epo. L'eritropoietina, o epo, è un ormone prodotto dai reni e serve a regolare la produzione dei globuli rossi da parte del midollo osseo. Quindi l'epo è un ormone che noi produciamo, i nostri reni lo producono. Quando però i nostri reni non funzionano e quindi abbiamo un problema di anemia, possiamo aver bisogno di un'epo sotto forma di farmaco. E quindi nel caso di pazienti con problemi ai reni che non sono in grado di produrre l'epo, si può ricorrere alla farmaco. Però se il farmaco viene utilizzato da atleti che non sono malati, ma lo usano solo per migliorare le prestazioni, allora siamo in presenza di doping. Il farmaco infatti può essere impiegato dagli atleti perché è in grado di aumentare i globuli rossi e quindi in questo modo l'atleta migliorerà il trasporto di ossigeno ai muscoli e al cuore e migliorerà le sue prestazioni sportive. Solo che l'epo usato in questo modo dagli atleti comporta gravi rischi per la salute a causa dell'aumento della densità del sangue, che si ha un'epocazione arteriosa con il rischio di causare ictus, trombosi e infarto. La particolarità dell'epo è che quello prodotto dal nostro corpo e quello che possiamo prendere con un farmaco non si possono distinguere, quindi nei controlli antidoping non è possibile quando troviamo l'epo capire se è stato introdotto dall'esterno in un farmaco o se è un lepo di produzione nostra insomma che produciamo nei nostri reni. Vediamo adesso che cos'è l'ematocrito. L'ematocrito è il rapporto percentuale tra il volume dei globuli rossi e il volume totale del sangue. Quindi come vediamo in questa figura c'è una provetta con del sangue dentro, quando viene centrifugato la parte più pesante, composta da globuli rossi, globuli bianchi e piastrine, si deposita sul fondo ed ha un colore rosso scuro. In alto rimane il plasma che è sostanzialmente formato da acqua, la parte più liquida. Quindi in questo caso l'ematocrito è il 45%. La parte relativa ai globuli bianchi e le piastrine occupa molto poco spazio, quindi si può considerare tutto l'ematocrito come se fosse solo di globuli rossi. Qual è il valore normale dell'ematocrito? Normalmente negli uomini va dal 40 al 50%. In questo caso, vedete, era del 45%. Per le donne è un pochino più basso in genere e sta tra il 35% e il 45%. Come facciamo a stabilire se una persona, ad esempio un atleta, ha assunto il farmaco dell'epoca per doparsi e per aumentare il suo ematocrito. Non è possibile attraverso l'epo, perché quando troviamo l'epo nel sangue non possiamo distinguere se è quello prodotto dal nostro corpo oppure quello preso con un farmaco. Quindi nel ciclismo hanno deciso un metodo indiretto e cioè hanno deciso che se l'ematocrito supera il 50%, comunque il ciclista viene fermato, viene escluso dalle competizioni. Quindi anche se non sappiamo se ha superato il 50% in maniera naturale, che potrebbe anche succedere, perché in alcuni casi rari gli uomini possono arrivare anche a superare il 50%, però nel ciclismo si è deciso di mettere questo limite per evitare che comunque l'atleta possa andare incontro a dei rischi per la salute. Questa è proprio la situazione che si è verificata nel 1999 quando Marco Pantani venne squalificato per doping. Dalle analisi che gli fecero il suo ematocrito risultò superiore al 50%. Parliamo adesso di un'altra sostanza completamente diversa che viene usata per doparsi soprattutto negli sport di potenza e negli sport di forza. Si tratta degli steroidi anabolizzanti. Sono sostanze che hanno un'azione simile a quella del testosterone, che è un ormone sessuale maschile, quindi anche in questo caso il nostro corpo li produce gli steroidi. Fanno crescere la massa muscolare e la forza fisica. L'utilizzo degli steroidi anabolizzanti è tipico degli sport di potenza, quindi dove avere una grande quantità di muscoli è importante, quindi nel bodybuilding, nel sollevamento pesi e nelle gare di sprint di velocità. L'uso di queste sostanze ha degli effetti collaterali molto gravi, ad esempio può provocare ipertrofia cardiaca e infarto, quindi cresce la massa muscolare che forma il cuore. Si possono avere degli infarti. C'è una atrofia dei testicoli che non funzionano più bene perché il loro lavoro viene sostituito dai farmaci, quindi se io fornisco ad un organismo dall'esterno degli steroidi anabolizzanti il mio corpo capisce che non c'è più bisogno di produrre, quindi i testicoli che è dove viene prodotto lo steroide anabolizzante nell'uomo non funzionano più. Hanno un effetto anche sul nostro comportamento, sul nostro umore, quindi creano e danno ira e aggressività, si diventa irascibili e aggressivi. Ed infine per le donne, perché anche le donne fanno uso di queste sostanze, siccome sono ormoni maschili, possono portare alla virilizzazione, cioè a far avere alla donna delle caratteristiche simili, tipiche dell'uomo, quindi ad esempio una crescita della peluria, un abbassamento della voce e anche delle trasformazioni proprio del fisico, del corpo della donna. Abbiamo visto solo due sostanze, l'epo e gli steroidi anabolizzanti, ma in realtà le sostanze e i metodi proibiti sono molti di più. Non ne parliamo perché non ne abbiamo il tempo, comunque li citiamo così in maniera generica, ci sono i diuretici e gli agenti mascheranti servono a nascondere per esempio l'uso di altre sostanze. C'è tutta la parte della manipolazione del sangue che è avvietata, quindi fare delle trasfusioni, prendere del sangue ricco di certe sostanze e rimetterlo poco prima di una gara. E poi c'è il doping genetico, che è un po' la frontiera, un po' il futuro del doping, perché si va ad intervenire proprio nei geni per far sì che ad esempio si producano dei muscoli diversi, più forti, più veloci. Ci sono delle sostanze, come abbiamo già detto, che sono proibite solo durante la competizione, ad esempio gli stimolanti, la categoria degli stimolanti, le anfetamine, i narcotici, come l'eroina o i cannabinoidi, come la scice e la marijuana, e l'alcol, che abbiamo detto che è proibito solo negli sport motoristici, quindi auto e moto. Si parla di doping di stato quando non è il singolo atleta o un'intera squadra a doparsi, ma è un'intera nazione, un intero paese che è coinvolto ai suoi più alti livelli per organizzare e pianificare il doping. Questo è successo soprattutto durante la guerra fredda, dopo la seconda guerra mondiale, nei paesi dell'est che hanno usato lo sport per dimostrare la loro superiorità. In Germania Est questo ha raggiunto livelli estremi e ha coinvolto massimi dirigenti sportivi e servizi segreti. Gli atleti sono stati dopati con dosi altissime e molti di loro hanno avuto gravi problemi di salute e non erano neanche al corrente mentre li dopavano, ma lo hanno scoperto solo successivamente. Il caso limite è quello di Heidi Krieger, che era una campionessa europea nel lancio del peso negli anni 80. Sono stati somministrati talmente tanti ormoni che è cresciuta e cambiata così tanto nel fisico, è cambiata anche nella mente e alla fine il suo fisico era diventato così simile a quello di un uomo che ha deciso di cambiare sesso. In questa cartina vediamo qual era la situazione in Europa durante la guerra fredda. Quindi vediamo che c'era questa in rosso, era la cosiddetta cortina di ferro, era come un confine che separava la parte a est, che era quella dell'Unione Sovietica e dei paesi dell'est, quindi la Polonia, la Cecoslovacchia, l'Ungheria erano alleati dell'Unione Sovietica. E dalla parte opposta invece c'erano i paesi occidentali, tra cui anche l'Italia, che erano alleati degli Stati Uniti. E vediamo qui che la Germania, che oggi è riunita, ma dopo la guerra era stata divisa in due, quindi c'era una Germania Est, che è questa qui con la capitale Berlino, e la parte Ovest, la Germania Ovest, che era questa qui. Ora, durante la guerra fredda questi due blocchi si combattevano non con le armi, perché non ci furono delle guerre direttamente, ma si combattevano in altri campi, come ad esempio nella corsa allo spazio, per chi arrivava prima sulla Luna, oppure nello sport. Quindi le Olimpiadi, per esempio, erano un'occasione per primeggiare, e le nazioni più piccole, come ad esempio la Germania Est, che come vediamo qui era piccolissima, però riusciva nelle Olimpiadi a vincere un gran numero di medaglie, proprio perché concentrava nello sport molte delle sue energie. E proprio della Germania Est veniva Heidi Krieger. In questo video, Andrea Krieger racconta tutta la sua incredibile storia. Voglio essere la prima donna della Germania Est a lanciare il peso a 23 metri, e anche di più. Andreas Krieger prima era Heidi Krieger. Era la campionessa europea di lancio del peso per la Germania Est nel 1986. Heidi Krieger è cresciuta nella ex Germania Est, uno stato satellite dell'Unione Sovietica. La Germania Est ha avuto un ruolo importante nella guerra fredda. Condivideva un confine con l'Occidente capitalista. Per lo Stato, il pubblico era più importante del privato, e gli obiettivi del partito erano spesso più importanti della realizzazione personale. Nel blocco dell'Est, il socialismo si riteneva superiore al capitalismo. Il successo nello sport era un modo per provare che il sistema politico della Germania Est era il migliore. L'infanzia di Heidi Krieger era stata uguale a quella di tanti altri bambini della Germania Est. Venne coinvolta nello sport. A circa 10 anni ho iniziato a fare sport dopo la scuola. Insieme ad una mia compagna facevamo atletica leggera e mi piaceva molto. Ho continuato perché c'erano tante discipline, lanci, corse, velocità. Lo trovavo interessante, era come un gioco. Nel 1979 sono stata selezionata per andare in una scuola speciale per giovani atleti. Avevo 14 anni. Il mio allenamento giornaliero cambiò completamente quando arrivai lì. Per una ragazza non era facile per Heidi Krieger. Era come una strana a scuola. Ma nel gruppo sportivo invece era accettata e apprezzata. Quando le mie prestazioni aumentavano, ottenevo più riconoscimenti dagli allenatori e dagli altri atleti. Questo mi aiutava a sentirmi accettata. Era ciò di cui avevo bisogno. Ma quello che ottenevo in allenamento lo perdevo quando uscivo fuori. Gli atleti della Germania Est, comunista, erano noti come diplomatici in tuta. Il loro successo era così importante per il governo che non si accontentavano di allenamento e vitamine. A 16 anni il mio allenatore mi ha dato delle pasticche blu, oltre alle vitamine che già prendevo. Non so come si chiamassero. Non stavano nella scatola originale. Me ne dava l'allenatore dicendomi che erano un aiuto. A 17 anni mi hanno riempito di ormoni maschili più di quanto è stato fatto con un adulto, come Ben Johnson. I progressi in allenamento non erano una sorpresa, ma qualcosa di previsto e pianificato. Le sostanze dopanti venivano ricercate e sviluppate dallo Stato. Si chiamava Piano Statale numero 1425 e consisteva nella ricerca, sperimentazione, sviluppo e somministrazione di nuove sostanze. Era un piano sistematico che monitorava ogni passo della carriera degli atleti. Heidi Krieger ha presto accusato gli effetti di questo sistematico doping di Stato. Ero alta 1,85 e pesavo 70 kg, quindi ero molto alta e magra. Due anni dopo pesavo 105 kg ed era tutta massa muscolare. Oltre al doping, la Germania Est aveva anche altri modi per motivare gli atleti a migliorare le prestazioni. Solo chi aveva successo veniva premiato con speciali privilegi. Io volevo viaggiare, quello era il mio sogno. Volevo andare in un paese capitalista. Sono potuto andare in Germania Ovest e in Svezia ed è stato bello. I campioni olimpici e europei potevano ottenere un appartamento prima degli altri. privilegi. Atleti e allenatori avevano un rapporto molto stretto, però molti allenatori se ne approfittavano. Ho conosciuto molti allenatori che pensavano solo a se stessi. Pensandoci, capisco che il mio programma di allenamento era molto monotono. Facevo allenamento con i pesi per tutte le discipline. Invece di sviluppare la resistenza, sollevavo pesi fino allo sfinimento, fino a che non potevo più muovermi. Conservo ancora i vecchi piani di allenamento, solo per avere un'idea di quanti pesi sollevavano. Nel corso di due settimane ho sollevato più di cento tonnellate in sala pesi. Ed era una donna. Il programma della Germania Est per Heidi Krieger funzionava. Era arrivata a pesare 105 kg e aveva vinto i campionati europei del 1986. Ero molto contento all'inizio. Era bello vedere la gente alzarsi in piedi e applaudire. E il pensiero successivo era, cavolo, adesso lo vorranno vedere sempre. Il titolo europeo si pensava fosse solo l'inizio per Heidi Krieger. Ma presto scoprì quanto l'umore poteva cambiare velocemente quando si smetteva di vincere. Non puoi contraddirci, altrimenti sei fuori. In pratica ero minacciata. Lo Stato faceva forti pressioni sugli atleti, ma quello era solo uno dei problemi di Heidi Krieger. Ad un certo punto il problema fu che non stavo più bene. E non perché non volevo più fare sport, ma perché non ero a mio agio in un altro senso. Non riuscivo a capire davvero il perché non ero a mio agio, soprattutto con quelle squadre femminili. Nel 1989 cade il muro di Berlino e con esso la Germania Est ed il suo regime. Per Heidi Krieger non cambia molto all'inizio e continua a sollevare pesi e a sperare nelle medaglie. Ma agli anni del doping si stavano facendo sentire sul suo fisico. A 26 anni finì la sua carriera come lanciatrice. Riuscì a trovare un lavoro come commessa in un negozio di animali. E fu lì che conobbe qualcuno che la aiutò a capire chi era. Era il 1995. C'era un ragazzo, un mio collega, che ha capito cosa mi era successo. È stato lui a parlare per la prima volta di transessualità. Ho pianto per il sollievo, per lo shock. La decisione di fare un intervento chirurgico e vivere oggi come Andreas Krieger mi ha salvato la vita. Ci sono voluti tre anni di terapie perché Heidi diventasse Andreas. All'inizio non aveva attribuito i problemi di salute o la transessualità al doping. Andreas Krieger credeva ancora di aver vinto i campionati europei da atleta pulito. Nel 2000, dieci anni dopo la riunificazione della Germania, ci furono dei processi contro i dirigenti sportivi della Germania orientale. E fu solo allora che Andreas Krieger capì cosa gli era successo. Era il 2000, l'anno in cui iniziò il processo, che finalmente ha chiarito la situazione. e cioè che i miei successi erano fasulli. Li avevo ottenuti con la chimica, con il doping, ma non è stata opera mia. L'impatto di anni di doping può andare ben oltre i confini dello sport. Secondo gli esperti, è possibile che il doping ormonale durante l'adolescenza possa influenzare l'identità di genere di una persona. Ci furono circa 10.000 atleti di alto livello in Germania Est, insieme a centinaia di allenatori e dirigenti. Non tutti quelli coinvolti nel doping sono stati ritenuti colpevoli. Ci sono alcune vecchie conoscenze che continuo ad incontrare agli eventi sportivi, ma sinceramente spengo la TV quando li vedo. Non so cosa gli farei. Andreas Krieger adesso è un volontario che collabora a progetti di prevenzione del doping. porta la sua grande esperienza ed energia nel suo volontariato. La mia speranza è che la lotta contro il doping che abbiamo iniziato possa continuare, grazie all'organizzazione vittime del doping e all'Agenzia nazionale antidoping tedesca. Spero che questo lavoro possa crescere a livello internazionale e che si possano proteggere le persone per evitare che si ripeta quello che è successo a me. Sarebbe bello se potessi proteggere le persone dal doping condividendo la mia esperienza. Ma la prevenzione del doping non è solo una questione di agenzie antidoping o di politici. Tanta gente va allo stadio per vedere gli atleti. Di sicuro sono stati viziati in passato. Hanno visto record mondiali e medaglie olimpiche, ma anche il pubblico è responsabile. Sì, gli atleti, i politici, ma anche il pubblico. Gli spettatori dicono, pago il biglietto e voglio vedere atleti puliti e anche qualche nuovo record. Ma è una contraddizione. Quindi la prevenzione non coinvolge solo gli atleti, gli allenatori e i politici. È un problema sociale. Che cos'è che vogliamo? La questione doping è stata parte della vita di Andreas Krieger per decenni. Per ironia della sorte, uno degli eventi più importanti della sua vita è legato al suo passato col doping. Ho incontrato mia moglie nel 2000, durante il processo contro il doping alla Germania Est. E nel 2002 ho avuto la fortuna di sposarla. Mi sento come se avessi vinto alla lotteria. Sono così fortunato. Non ho più avuto nessun contatto con la mia famiglia, con i miei tre fratelli e mia madre. Non hanno accettato la mia decisione. Ma la famiglia di mia moglie e i miei amici mi hanno accettato per quello che sono. Io non sono perfetto. Sono Andreas. Sono stata Edi. E adesso ho la sensazione di essere a casa con questa famiglia. Ma io volevo essere la prima donna a lanciare il peso oltre i 23 metri. Si può parlare di doping di Stato anche per quello che è successo in Russia tra il 2011 e il 2015, quando la Russia ha coperto i suoi atleti e oltre 1000 atleti di 30 discipline diverse sono stati coinvolti in un vero e proprio programma di doping di Stato. Nel laboratorio antidoping di Mosca, con la collaborazione dei vertici dello sport russo di ministri, di alti dirigenti e anche collaborazione dei servizi segreti, c'è stata una manomissione di provette per nascondere il doping. Per questa ragione molti atleti russi sono stati esclusi dalle Olimpiadi di Rio del 2016 e da altre competizioni che sono seguite. Nel 2018, alle Olimpiadi Invernali, la Russia è stata esclusa come Stato e hanno potuto partecipare solo alcuni atleti che non erano coinvolti nel doping. Nella prossima diapositiva, nel prossimo video, vediamo la vicenda del doping di Stato in Russia. Il doping di Stato è stato un scandalo che per la Russia va ben oltre soci. Sono pesantissime le accuse contenute nel report, prodotte poi diffuso anche dal professore di diritto sportivo, il canadese Richard McLaren, già membro della commissione indipendente dell'Agenzia Internazionale Antidoping. Dal 2011 Mosca ha organizzato in territorio russo, oltre ai giochi olimpici invernali, mondiali di atletica nel 2013, quelli di scherma e di nuoto nel 2014-2015. Risultato, anche con la complicità dei servizi segreti, la Russia ha barato per anni. Il sistema è stato istituito dopo che le autorità russe avevano accertato che il medagliere della squadra olimpica Vancouver nel 2010 fu deludente e fu quindi istituito questo metodo. Fin qui tutto chiaro, ma come funzionava questo sistema? Semplice distruzione, falsificazione oppure manipolazione dei test antidoping, tre metodi usati singolarmente oppure contemporaneamente. Un procedimento introdotto nel 2011 ed usato fino ad agosto dello scorso anno. In vista dei giochi, l'atleta consegnava un campione di urina pulita per procedere proprio alle verifiche sulla presenza di farmaci che migliorano le prestazioni agonistiche. Le autorità russe lo conservavano poi in un congelatore e di qui si procedeva con il doping. Durante i giochi, l'atleta consegnava un campione di urina al funzionario di controllo, come da procedura standard, ma le fiale venivano sottratte dal laboratorio di notte da un agente dell'FSB. I tappi di chiusura venivano poi rimossi, in modo da non rompere il sigillo e l'urina contenuta e con tracce di farmaci, sostituita con un campione pulito. Insomma, dal rapporto emerge che tutto il sistema sportivo russo è stato coinvolto, primo tra tutti il settore dell'atletica e dei pesi, ma anche quello della lotta libera, della canoa, del ciclismo, del calcio e del pattinaggio. Il mio lavoro, il mio mandato, è stato quello di indagare, fornire un rapporto e stabilire dei fatti certi. Non si volevano stabilire se ci fossero state o meno raccomandazioni, dichiara il professor McLaren. Non ci sono raccomandazioni. Tutte le informazioni contenute in questa relazione vogliono far conoscere cosa succedeva veramente. Una doccia gelata, insomma, per il Cremlino che ha subito reagito facendo sapere che tutti i dirigenti accusati saranno sospesi fino alla conclusione delle indagini, ma per la Russia si profila l'esclusione da Rio 2016. Tant'altro video ci sono le scuse più strane raccontate dagli atleti, con i bordi in castiglio. Grazie. 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 Poi c'è qui il trailer del film The Programme, film sulla vicenda di Lance Armstrong, il ciclista che ha vinto 7 Tour de France senza che nessuno si accorgesse che era dopato, poi alla fine lo hanno scoperto. E poi ci sono due video sul caso Spazzer, quindi c'è una inchiesta che si chiama Operazione Spazzer e poi una intervista a Sandro Donati che è stato il suo allenatore. E quella di Spazzer è veramente una storia, un vero e proprio giallo, una storia di complotti e non è stata ancora del tutto chiarita, vi invito a vedere questi link per capirci qualcosa di più. Ok, la lezione finisce qui, grazie a tutti e arrivederci alla prossima.